benvenuto nei canali social dell'agenzia delle entrate oggi parliamo del nuovo servizio consegna documenti a istanze che consente di presentare via web all'agenzia documenti anche firmati digitalmente senza doversi recare in ufficio puoi consegnare dal pc di casa sia documenti richiesti dall'agenzia sia documentazione che scegli di inviare di tua iniziativa in entrambi i casi otterrai la ricevuta di protocollazione proprio come allo sportello ecco i passi da seguire per consegnare i tuoi documenti all'agenzia in pochi clic accedi all'area riservata con speed cie o cns prima di proseguire verifica sul sito che non sia disponibile un servizio telematico che fa già al caso tuo per esempio se devi registrare un contratto di locazione dovrai usare il servizio rli seleziona istanze e certificati e scegli nuova consegna scegli se stai inviando un documento per te stesso o per un'altra persona nei casi previsti specifica se stai inviando un documento su richiesta dell'agenzia o di tua iniziativa per richiedere un servizio indica la categoria il tipo di documento e a quale struttura dell'agenzia è destinato carica inizia il documento ricorda che puoi caricare anche documenti firmati digitalmente visualizza il riepilogo dei dati e invia il documento ricorda che il servizio consegna documenti e istanze può essere utilizzato solo se disposizioni normative o provvedimenti non prevedono specifiche modalità di presentazione trasmissione o comunicazione ad esempio nel caso delle dichiarazioni dei redditi